A San Donato milanese si festeggia Santa Barbara, si festeggia con l'inaugurazione di nuove opere come nel costume dell'Eni, il secondo palazzo degli uffici di Metanopoli. Madrina del monumentale edificio è la signora Boldrini. Subito dopo la cerimonia ha luogo la consegna dei premi al personale anziano. Il professor Boldrini dopo aver rivolto un breve discorso ai dipendenti consegna i diplomi e le medaglie. Anche questa è una vecchia tradizione instaurata da Enrico Mattei. Il nuovo presidente ha voluto mantenerla, poiché crea un legame ideale fra la grande azienda statale e coloro che danno ad essa ogni attività. Quest'anno è però una novità a Metanopoli, una mostra d'arte. La festa di Santa Barbara ha visto infine l'inaugurazione del settimo anno di studi della scuola Enrico Mattei sugli idrocarburi. La scuola è frequentata da allunni di ogni paese, da giovani che saranno domani i nuovi esperti del petrolio. Grazie a tutti.